Le verticale numero 17 della Ush di Ladins. Sulla pruma piatta per ricordare il cedean dell'importante simbole della Ladinia. Da Podol è un contributo di Riccardo Zanoner e in conto della questione della mobilità. Dell'attualità si è per legger del Nefsit Internet e della Neva App che le ha modi più duci territori a sottosconanza. Dell'evento di Nonzec Milano Food Week, a quel che tolera aperto in cil'chef da Vic Stefano Ghetta. E dell'importante occasione di conterti Staci Unii l'esperienza che si è per vivere su Nesmonci. E a modo dell'esposizione dell'artista fassan Klaus Raperra, teccesa della Sata Trent. E del film in programma al Gran Event con protagonista di Svalives Ajo e di Noce Valedes. Tempo dell'adunanza generale e delle decisioni importanti per la Cassarai Faisen di Badia. Della piatta di Fascia, taccone con il provvedimento della Giunta Provinziale che dà una neva definizione di Ambic. Giorninand con la Neves che reverda il partimento della Suda dei Cavalais. E con la presentazione del Liber della storica Fodoma Luciana Palla. Dappodoste per l'eser della Fessa di Volontative del Fec per si è importante cedean. O la che l'estat portadante è in cina pubblicazione. Appede l'inaudazione della neva sezione del Museo Ladin. Tutta una piatta è dedicata alla nonna edizione della Suda Ladina. E in den al primo appuntamento della manifestazione l'estat portadante un interessante referat. Giorninand con la radunanza della società di Pozza. Col peste vento dai scoletti di Moena e Pozza. Col spettacolo musicale che viene in Rezzana Valge. Col la scontreda o la che l'estat risonato dell'Ouf. E con gli appuntamenti culturali dell'Unione di Ladins. Veniamo col concorso del retrato. In Cicchestan la Lìa Guanchi di Gherdena ha un programma di torperta di svaliva manifestazioni per tenere su questa bella tradizione. A Selva l'estat metto a girna sfera delle tradurre in musica in memoria della scrittura ladina Frida Piazza. Perché il che verde al sport risonò della parità ottenuta della partita del fasciabalon contro il Borgo. Ed è il scomento della stagione di Garagedes con la Roda da Mont. Sulla Ush di Ladins ogni vendere potete trovare la neve sdaduta alla Ladinia. Il prese dell'abbonamento per il 2017 l'è di 60 euro. Per info e abbonamenti potete viaggiare alla redazione della fascia su Stradona St. Jean. Telefon 0472 74745 455 A Selva l'estat metto a girna sfera di Gherdena ha un programma di Gherdena ha un programma di Gherdena.